Ciao a tutti, vi ringrazio per il video di ieri dove siamo andati ad analizzare la trimestrale di meta e ho dato anche la mia valutazione personale da qua a tre anni e oggi facciamo più o meno la stessa cosa su Google, ovvero Alphabet perché per chi non lo sapesse ieri sera è uscita la trimestrale e Google inizialmente era agito con un meno 4-5% attualmente invece è intorno al meno 2 e qui andiamo sostanzialmente a aggiornare la valutazione che avevo fatto uscire qualche settimana fa che tra l'altro se ve la siete persa andatevela a vedere perché vi avevo detto anche quanti soldi avevo investito in Alphabet allora sostanzialmente durante la trimestrale sono state dette un paio di cose interessanti è stato soprattutto confermato il fatto che Alphabet, al contrario di quello che le persone pensano è probabilmente insieme a Microsoft la prima azienda pronta a sfruttare e promuovere l'intelligenza artificiale infatti Sundar Pichai che sarebbe il CEO ha sostanzialmente detto che i nostri investimenti a lungo termine nella Deep Counter Science ci rendono estremamente ben posizionati mentre l'AI raggiunge un punto di inflessione una cosa che sicuramente è piaciuta a me, mi dispiace anche un po' dirlo è il fatto che Alphabet ha annunciato che licenzierà e taglierà 12.000 posti di lavoro ha ribadito il fatto che Alphabet nonostante l'ambiente macroeconomico in cui ci ritroviamo non ha intenzione di rallentare i suoi piani per spingersi ulteriormente nella tecnologia dell'intelligenza artificiale poi ha ribadito il fatto che l'intelligenza artificiale è la tecnologia più importante su cui stanno lavorando attualmente e poi vi ho trovato questo grafico qua che fa vedere molto veramente come sono andate le aspettative contro i risultati usciti ufficialmente dalla trimestrale la cosa che più mi ha fatto tra virgolette paura è questo meno 3% rispetto alle steam per quanto riguarda YouTube Ads infatti gli analisti aspettavano in cerca 8.2 miliardi di dollari di revenue mentre sono state solo tra virgolette di 7.9 poi ha sostanzialmente anche missato abbastanza sui utili per azione e il free cash flow dove ci aspettava 18 miliardi di free cash flow e Alphabet ha dichiarato solo 16 ma ci può stare sostanzialmente Alphabet non è scesa semplicemente perché le aspettative che sono anche quelle che hanno portato il prezzo a scendere così tanto dai massimi erano di una flessione più grande per quanto riguarda i ricavi pubblicitari sostanzialmente Alphabet ha residito molto bene a mio avviso la cosa che vi dicevo anche nell'ultimo video dove vi parlavo di Alphabet ed è stata ribadita da Sundar Pichai che vi ripeto è il CEO è il fatto che Alphabet ha registrato un forte slancio in aree come Google Cloud che personalmente utilizzo io e vi posso assicurare che è un degnissimo competitor di Microsoft e Amazon sostanzialmente poi ha frenato un po' gli entusiasmi dicendo è chiaro che dopo un periodo significativo di accelerazione che è stata quella del 2020-2021 è anche giustificabile una crescita meno elevata dovuta anche all'ambiente macroeconomico che si è presentato ovvero quello di un rischio recessione un'altra cosa molto interessante è il fatto che hanno dichiarato che si aspettano che la crescita dei ricavi acceleri nuovamente nel corso del 2023 e che i margini migliorino grazie a un migliore contenimento dei costi ora passiamo però alla valutazione vera e propria che è quella relativa al mio algoritmo che per chi non lo sapesse prende in esame all'incirca una quarantina indicatori tra indici di bilancio, time di crescita e altre cose e poi da un rating da 1 a 10 e vi assicuro che un rating di 7.40 è molto 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 elevato tenete in considerazione che stando all'ultimo stato patrimoniale Alphabet ha un voto addirittura di 9 che forse è il più alto che c'è e questo è tutto principalmente al fatto che attualmente Alphabet si ritrovi con 113 miliardi di cash con 0 debiti a breve e con solo 27 miliardi a lungo termine capite quanto è fantastica Alphabet in termini di bilancio per quanto riguarda invece il conto economico la situazione sostanzialmente non cambia pensate infatti che ha un gross margin del 55% un net margin addirittura del 21% un ROI del 24% praticamente che è molto molto alto e un ROI del 27% ditemi voi se desiderate qualcosa di meglio attualmente Alphabet ha un PE di 21 che secondo me a mio avviso è corretto un prezzo free cash flow di 24 che ci può stare secondo il discounted cash flow che vi ho fatto attualmente Google è leggermente sottovalutata infatti ha un fair value intorno ai 112 dollari attualmente ha un prezzo di 106 quindi una lieve sottovalutazione per quanto riguarda la votazione sui multipli io personalmente stimo una crescita degli utili da qua a 3 anni all'incirca di un 12-13% anno che è una stima migliorativa rispetto a quella dell'ultimo video ma sostanzialmente il prezzo a 3 anni non dovrebbe cambiare troppo infatti nel video scorso stimavo all'incirca un prezzo da 3 anni di 130 attualmente un prezzo a 3 anni di 140 quindi levemente meglio però l'azienda è salita quindi sostanzialmente il possibile gain non è più come quello di prima ma un buon 30% dovremmo riuscire a portarcelo ancora a caso da 4 anni considerando che la mia stima sul PE è abbastanza bassa perché io stimo un PE tra 3 anni di 19 quindi sostanzialmente molto molto ragionevole detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi un like e un commento e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti